Eccoci qua, Sanremo 2017. La prima serata ormai è passata, c'era ieri sera, perché oggi è mercoledì, di conseguenza ieri era la prima serata, e ho buttato giù nel frattempo tre canzoni che hanno partecipato appunto alla prima serata. In ultime ve le presento Fabrizio Moro, Portami via, che andrà suonata con il capo tasto sul terzo, Fiorella Mannoia, Fiorella Mannoia con la canzone Che sia benedetta, e infine Herman Meta, Vietato morire. Sono canzoni abbastanza semplici dal punto di vista compositivo, ovviamente dietro ci sono tutti gli arrangiamenti e questi non si discutono. Quello che mi sono divertito a fare è semplicemente buttare giù lo scheletro, lo satura, il contenuto armonico base, poi ovviamente sono state tutte riarrangiate, sono state suonate ovviamente con dei criteri molto più professionali. Ho cercato semplicemente di estrapolare gli accordi base per poter suonare velocemente i pezzi, in modo tale che tutto il popolo di YouTube possa soffrirne e possa divertirsi a suonare sin da subito i pezzi di Sanremo 2017. Questi sono i contributi video e buon divertimento. Se volete le tab, gli accordi, la struttura originale con gli arrangiamenti originali, basta scrivermi e cercherò di accontentarvi. Va bene? Vi aspetto anche su www.liveplayrock.com. Trovate tanto il link qui sotto nella descrizione del video. Va bene? Cercherò in questa serie di fare più pezzi possibili, ovviamente in base a quanto tempo ho a disposizione. Ciao e buon sarremo! Grazie a tutti!